Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Resta in gravi condizioni la donna di Serungarina è rimasta schiacciata fra due camion sul lago 14 Ladri affamati a Cucurano di Fano nella notte entrano in un ristorante per mangiare un coniglio poi mettono a segno altri due furti valore del bottino di quasi 14.000 euro Va in pensione il blocchetto rosso del medico di famiglia ecco come funziona la nuova ricetta elettronica Il vecchio stabile delle opere marittime di Fano si trasforma in una vetrina dedicata ai turisti Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia si trova ancora in prognosi riservata Simona Campolucci la 41enne è rimasta vittima lunedì mattina di un tragico tamponamento sulla 14 erano le 8 e 20 quando la donna originaria di Ivrea ma residente a Serrungarina stava percorrendo l'autostrada in direzione sud a bordo di una Fiat Cubo di colore arancione quando è rimasta schiacciata violentemente fra due camion la sua auto che si è infilata sotto il mezzo pesante che la precedeva si è completamente distrutta la 41enne è svenuta ed è rimasta priva di coscienza per tutta la durata dell'intervento dei vigili del fuoco che l'hanno estratta dall'abitacolo i pompieri hanno liberato dalle lamiere anche il conducente del camion che ha iniziato il tamponamento un greco di 51 anni che ha riportato fratture multiple a bacino e alle gambe entrambi sono stati trasportati nelle ambulanze al torretto di Ancona ma la donna che ha subito politraumi rimane sedata nella clinica di rianimazione dell'ospedale regionale altre furti sono stati messi a segno a Cucurano in piena notte i ladri hanno fatto eruzione in un ristorante dove hanno cenato con Coniglio e Fanta e poi hanno preso di mira altri due esercizi commerciali sentite ancora furti in sequenza ancora una zona di Fano presa di mira dopo il Lido nella notte tra domenica e lunedì è toccato alla zona di Cucurano con tre esercizi commerciali visitati dai ladri per l'autofficina fratelli Giorgini è il secondo furto subito che oltre al danno materiale lascia un senso di insicurezza e paura nei componenti dell'azienda e nei residenti un'altra visita dei ladri Sì, noi già ne abbiamo avute diverse in quest'ultimo periodo e questa volta però sono riusciti a portare via delle attrezzature da lavoro oltre che un po' di nafta dai vari camion dell'azienda Premetto che noi avevamo già subito un tentato furto nel 2015 e quindi la baracca veniva chiusa tutti i giorni con la bena delle scavature siccome la porta era chiusa hanno ben pensato di smontare il tetto e sono entrati dal tetto C'è la videosorveglianza? Al momento no non abbiamo niente qua è anche abbastanza poco illuminata la zona e quindi no non ci sentiamo molto sicuri poi i furti ultimamente se ne sono ripetuti in continuazione anche nella via di sotto via del Pietrisco lo stesso nel 2015 ci sono stati molti furti hanno rubato diverse autovetture diciamo che il valore si aggira intorno ai 1000 1500 euro una saldatrice un motopic come ripeto il nafta furti con pausa pranzo il caso di dire perché uno dei locali visitati dai malviventi è stata la trattoria pizzeria la vecchia fornace proprio sulla Flaminia dove dopo aver forzato una vetrata hanno fatto una visita nelle celle frigo e banchettato nello spazio esterno del locale con del cibo trovato e delle lattine di bibite poi impossessatisi di un estintore hanno fatto irruzione nel bar tapacheria Petit qui la storia è andata diversamente i due forse tre malviventi hanno racimolato un bottino consistente oltre 12.000 euro la notte tra domenica e lunedì verso le tre e mezza il mio socio è stato contattato dalla vigila la sorveglianza notturna avvisandolo che suonava l'allarme del bar il mio socio ha risposto di allertare anche i carabinieri verso le quattro quindi anche un po' prima quattro meno un quarto come è arrivato al bar c'era già la vigilanza e i carabinieri e purtroppo si sono accorti che erano entrati i ladri ed erano già usciti con un buon bottino hanno portato via sigarette praticamente tutte tranne qualche pacchetto di sigarette che è caduto per terra nel buttarlo dentro i sacchi grattivinci che erano appesi qui questi sono quelli che sono rimasti e dei soldi contanti che io avevo lasciato la settimana precedente che non avevo non volevo portarli a casa perché non c'era nessuno pensavo che erano più assicuri qui dentro invece insomma si parla di 10 12 14 mila euro circa è una stima questa è difficile dirlo di preciso da dove sono entrati? da quella porta lì che è la porta secondaria hanno tagliato sia l'inferriata in ferro con dei tronchesi e poi la porta vetro l'hanno sfondata prima con un estintore che non sono riusciti dopo perché l'estintore l'avremmo trovato dentro ma è stato trovato fuori dopo non so se gli hanno dato dei calci hanno usato altre cose sono entrati da quella porta lì sono stati anche ripresi perché qui c'è una ci sono delle telecamere due le immagini sono già dai carabinieri in tutto il filmato dura dai tre minuti e mezzo ai quattro minuti e mezzo tonnellate di vongole del tipo venus gallina provenienti dall'Adriatico sono state sequestrate in Spagna per qualche decina di chili sotto misura poiché oltre il 50% della produzione ittica nazionale di vongole raggiunge i mercati spagnoli i sequestri come afferma in una nota l'organizzazione produttori pesca di Fano Marotta e Senegaglia che ha diffuso la notizia hanno provocato un danno enorme per l'economia ittica nazionale che vede bloccata l'attività cambiamo argomento da oggi la ricetta del medico sarà anche elettronica ma cerchiamo di capire come funziona in questo servizio di Lino Balestra da oggi primo marzo entra in vigore su tutto il territorio nazionale la ricetta elettronica o dematerializzata dal nome sembra una diavoleria proveniente da un film di fantascienza anni 80 in realtà questa nuova forma di ricetta che coinvolge cittadini medici di famiglia e farmacie è partita con un decreto tre anni fa sulla digitalizzazione per garantire la tracciabilità delle prescrizioni la ricetta elettronica ha anche lo scopo di abolire quasi totalmente il supporto cartaceo ma in realtà in questa prima fase non sparirà del tutto in quanto è pur vero che farmacisti e medici sono informatizzati ma in caso di malfunzionamento del sistema o assenza di linea attraverso un promemoria bianco dato al paziente si potrà comunque recuperare la prescrizione in farmacia ma questa nuova ricetta quali implicazioni pratiche comporta in questa fase? quando sarà a regime e cioè sembra nel 2017 il paziente non avrà più la ricetta dallo studio medico ma noi medici faremo una ricetta elettronica che il paziente andrà in farmacia con la tessera sanitaria e il farmacista potrà dispensare la ricetta prescritta ecco in realtà che cosa cambia poi per il paziente tradotto in soldoni? ma si è fatto un gran chiasso però di fatto ancora cambia poco diciamo che noi potremo ancora prescrivere su ricetta rossa per lo meno gran parte dei farmaci stamperemo questi pro memoria quindi alla fine il paziente viene da noi o c'è la ricetta rosso o c'è la ricetta bianca non cambia granché diciamo l'unica vera novità è questa che il paziente che si reca da noi e che abita in un'altra città italiana fino all'altro ieri doveva andare dal medico della regione pagare un ticket e poi il medico gli faceva la ricetta e lui andava in farmacia questo adesso non dovrebbe più succedere ma la ricetta rossa quella che conosciamo tutti va definitivamente in pensione o rimane ancora in vigore la ricetta rossa ancora rimane in vigore perché ci sono delle diciamo rimane in vigore soprattutto per la diagnostica per la prescrizione delle analisi per la richiesta di visite specialistiche e poi anche per alcune tipologie di farmaci ecco ma i pazienti sono a conoscenza di questa novità noi oggi abbiamo chiesto il parere sia di alcuni cittadini che di un farmacista cosa ne pensa di questo cambiamento ma se è una cosa agevole che facilita un po' anche la vita di noi cittadini con una telefonata anziché andare dal dottore ogni volta per una ricetta sono d'accordo è utile è interessante questa cosa perché magari se uno va a Milano deve portarsi dietro le medicine oppure gli succede qualcosa all'improvviso cosa fa secondo me è una cosa positiva io sono per le innovazioni bisogna andare sempre a cauti così all'improvviso mi sembra un po' troppo traumatico la ricetta non sparisce diventa da rossa diventa bianca ma la carta c'è sempre dal nostro punto di vista è positivo perché non ci saranno più errori una volta poteva succedere l'errore umano la malinterpretazione della calligrafia la calligrafia del medico un po' così adesso non succederà più perché il sistema operativo se il farmaco dato non è quello della ricetta lo blocca la tendenza è quella di andare a eliminare completamente la carta voi adesso avete anche l'obbligo di infustellare questo dovrebbe essere nel 2017 eliminato questo è il lato negativo perché una ricetta dematerializzata la carta doveva sparire il ministero sta studiando il sistema di eliminare il fustellaggio cioè non si andrà più applicare il fustello a fustella del medicinale sulla ricetta ma andrà letta solo otticamente e si consegnerà il farmaco senza la procedura che si sta facendo è una cosa diciamo di tecnologia il ministero ci sta studiando speriamo quanto prima di arrivare a questo sistema innovativo cosa mi pare buono così possiamo andare in qualsiasi farmacia ma insomma tanto la tracciabilità rimane comunque a livello telematico quindi tante cose in realtà non cambiano è solo una percezione tattile dal punto di vista dei pazienti non cambia molto no 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 assolutamente verrà riaperto a settembre il ponte dei conciatori di Urbani all'infrastruttura che l'anno scorso era stata chiusa al traffico a causa di possibili cedimenti il presidente della provincia di Pesero e Rubino Daniele Tagliolini specifica che la sistemazione del ponte rientra nel progetto della Fano Grosseto la strada provinciale 4 Metaorense verrà trasferita all'ANAS e un gruppo di lavoro della provincia stessa progetterà il miglioramento della sicurezza della E78 nei tratti di Sant'Angelo in Bado San Giovanni in Petra Urbania Muraglione Fermignano San Silvestro Cala Gossina sabato 5 marzo in un convegno a Lunano Tagliolini farà il punto sulla viabilità provinciale a Cartocetto invece proseguono i lavori per la messa in sicurezza e asfaltatura delle strade infatti per il secondo anno consecutivo l'amministrazione comunale ha stanziato circa 200 mila euro il piano di opere pubbliche prevede inoltre la realizzazione di una nuova rotatoria all'uscita di Lucrezia della superstrada Fano Grosseto in un'intersezione molto pericolosa nella quale converge quotidianamente il traffico e in particolare dell'intera area artigianale e industriale e adesso torniamo a Fano perché il comune sta lavorando ad altri due progetti si tratta del restauro delle mura della rocca malatestiana e di uno sportello turistico al porto di Fano è stata lasciata in stato di degrado e abbandono ma ora dopo anni di inutilizzo la vecchia palazzina delle opere marittime verrà sistemata e trasformata in un punto IAT ad annunciarlo è stato il vice sindaco Stefano Marchegiani con un posto pubblicato sulla sua pagina Facebook l'assessore alla cultura del comune di Fano scrive che è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di ristrutturazione e che nuovo punto di informazioni turistiche che potrà essere operativo dal prossimo mese di luglio è il piccolo edificio color carta da zucchero delle opere marittime abbandonato da anni con una convenzione ovviamente il comune grazie all'aiuto della provincia 70.000 euro che ci vengono messi a disposizione si completa quella strategia di aprire punti IAT in diverse zone della città uno l'abbiamo aperto sul fine del 2014 in piazza con grande visibilità l'ufficio turistico resta dove è ovvio e questo è un ulteriore punto molto strategico perché appunto la confluenza tra Lido e Sassonia molto visibile sarà attrezzato con una rampa per portatori di handicap servizi igienici tre zone operative per impiegati e darà molta informazione sulle iniziative di accoglienza e promozione di tutto il territorio provinciale nella fattispecie di Fano anche servendo gli esercenti e coloro che operano nelle attività ricettive ma i lavori di restauro non terminano qui nella città della fortuna perché oltre a realizzare un'uscita di sicurezza la Rocca Malatessiana per poter ospitare 20 con 800 persone l'amministrazione comunale renderà più funzionale la Rocca consolidando le sue mura ci sono delle somme mi diceva l'ingegner Caiterzi che ha curato insieme alla sua intendenza il progetto che saranno impegnate per le opere necessarie di pronto intervento nella zona soprattutto della Rocchetta che incombo ovviamente sull'uscita di sicurezza di cui abbiamo parlato quindi mettano in salvaguardia anche i paramenti murari che incombono sull'uscita di sicurezza però credo che questa operazione ci dia l'opportunità vedendo i ribassi d'asta ma vedendo anche la possibilità di gestione che quel monumento potrà avere in futuro di programmare un completo restauro della Rocchetta e chissà un domani anche la ricostruzione del maschio che è stato abbattuto dai tedeschi come negli auspici un po' di tutti i fanesi ma anche della sua intendenza e adesso vi facciamo vedere queste fotografie che ci ha inviato l'artista fanese Sergio Carboni si tratta di alcune foto scattate dal ponte Mimo a Fano al torrente Arzilla come potete vedere ci sono rami e tronchi che ostruiscono il libero deflusso dell'acqua e che quindi andrebbero rimossi soprattutto in caso di piene del torrente infatti anche lo scorso anno l'Arzilla è esondato dopo forti piogge temporali provocando danni ingenti ai residenti cambiamo argomento e passiamo alla pagina degli eventi perché il presidente merito della Repubblica Giorgio Napolitano annuncia che il testo della legge speciale per il centocinquantesimo anniversario della morte di Rossini è pronto per l'esame dell'Aula e sarà approvato con il disegno di legge che è stato presentato a Roma dalla senatrice PD Camila Fabri si chiede un contributo straordinario di 6 milioni e mezzo di euro nei prossimi due anni questi fondi saranno destinati alle iniziative culturali e al recupero edilizio degli spazi rossignani a Pesaro è citata nel testo la manutenzione e il potenziamento delle strutture esistenti con riferimento particolare a Palazzo Livieri sede del nascente Museo Nazionale Rossini all'incontro hanno partecipato anche la presidente Rai Monica Maggioni il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli tutto esaurito al Politeama di Fano per la prima del GAF la compagnia teatrale che vanta 31 anni di attività ha portato in scena un scherz da prete una commedia frizzante divertente scritta a quattro mani dai cugini signoretti lo spettacolo che ha già conquistato gli amanti del dialetto verrà riproposto questa sera il 2 e il 7 marzo il prezzo del biglietto è di 12 euro e con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV grazie a tutti grazie a tutti